Italia 1! Giocare, studiare, capire tante cose e tenersi anche in forma. Io però? Sì, gente! Ma qual è il tuo sport preferito? C'è un programma in tv dove puoi fare tutto questo. Imparare divertendoti. Troppo comodo. Ziggy, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 17.25 su Italia 1. Ehi, gente, sono qui!